La provincia di Siena organizza un dibattito, un convegno, il titolo Terre di Siena 2020 strategie di sviluppo. Tanti soggetti, gli attori protagonisti di questo dialogo per delineare appunto il futuro delle Terre di Siena che passano attraverso progetti di cui la provincia ovviamente si è occupata e tra questi Siena Carbon Free, ovviamente il Terre di Siena Creative, molte collaborazioni importanti che ovviamente devono avere una base importante ma devono avere anche un futuro. Allora Presidente Bezzini, che futuro in termini di sviluppo si intravede per le province di Siena, per le Terre di Siena? Sì, noi abbiamo voluto chiudere il nostro mandato dando anche un contributo alla costruzione del futuro del nostro territorio con una serie di idee, di spunti, di progetti che vogliamo consegnare al sistema istituzionale, alle parti sociali perché ci riflettono nei prossimi mesi e magari riescano a costruire anche un orizzonte, una prospettiva perché noi non possiamo vivere solo nell'immediato, nel breve periodo. Questo territorio se vuole superare il momento di difficoltà che sta vivendo deve anche costruire una prospettiva di medio e lungo periodo, deve darsi degli obiettivi mobilitanti, deve costruire un orizzonte, deve avere una strategia. Per questo noi abbiamo messo a punto un programma, un piano, che parte da alcune esperienze positive sviluppate dall'attività dell'amministrazione provinciale in questi anni, appunto il progetto Terre di Siena Green, il progetto Terre di Siena Creative, le sperimentazioni fatte nel sostenere per esempio il brand Terre di Siena, tutta un'altra serie di riflessioni che vengono fatte per mettere in relazione il territorio con iniziative innovative che si stanno sviluppando sullo scenario internazionale, oppure la necessità ad esempio di dotare il nostro territorio di una piattaforma di riforma radicale della pubblica amministrazione che renda la pubblica amministrazione di questo territorio più competitiva di altre realtà. Ci sono tanti spunti nel piano strategico che abbiamo presentato e vogliamo mettere a disposizione di questo territorio, anche perché siamo convinti che nei prossimi mesi questa realtà, anche in virtù del superamento delle amministrazioni provinciali, debba darsi un progetto condiviso e una cabina di regia, perché se questo territorio, in particolar modo le amministrazioni comunali, si muoveranno in ordine sparso, noi rischiamo il declino, noi rischiamo di diventare una terra marginale rispetto ad altre realtà, invece dobbiamo essere protagonisti delle politiche di sviluppo della regione toscana. Strategie di sviluppo per le terre di Siena, sviluppo che ovviamente non prescinde dall'aspetto economico. Assessore Scarpelli, lei ovviamente ha vissuto questo territorio, territorio, il momento anche critico della crisi economica che ha colpito la provincia di Siena, proiettandoci verso il futuro, che tipo di sviluppo intravede? Noi in questo documento abbiamo provato a delineare alcune linee guida per declinare il futuro di questa provincia nei prossimi 10-20 anni e lo abbiamo fatto provando a dare un futuro alle imprese che ci sono, provando a costruire alcune linee per le imprese che ci sono, perché non possiamo prescindere da questo, le imprese che ci sono sono il nostro vero tesoro, perché abbiamo un apparato manifatturiero, un apparato che opera nel settore dell'agroalimentare di straordinaria eccellenza, non c'è bisogno che ci ricordiamo tutte le volte, ma forse è bene che ci ricordiamo perché spesso tendiamo a scordarci che le imprese che operano in questo settore sono leader nei settori nel quale operano e quindi è importante che questi continuano a stare nel nostro territorio e continuano ad essere leader e quindi continuano a innovare e continuano ad avere le opportunità per poter innovare e noi proveremo a costruire un percorso che dia supporto a queste imprese. L'altro strumento che abbiamo messo in campo è quello di provare a attrarre nuove imprese e attrarre nuove imprese è molto complicato, è molto difficile, prima di tutto perché siamo in concorrenza con tutto il mondo, perché tutto il mondo cerca di attrarre investimenti, noi crediamo che questo territorio abbia dei valori aggiunti, valori aggiunti sono dati dalla storia di questo territorio, sono dati dalle istituzioni culturali che sono in questo territorio, le due università e altre istituzioni culturali che sono presenti in città ma non solo e dal patrimonio ambientale e sociale che questa provincia ha. Tutto questo messo insieme è messo a sistema, crediamo che possa rappresentare un valore aggiunto che altri territori non possono mettere sul piatto di investimenti e di investitori stranieri. In questa strategia di attrazione ci sta anche però a far nascere nuove imprese sul territorio e quindi l'iniziativa del terreno di senere creative che abbiamo più volte illustrato si inquadra in questo disegno, una strategia che vede come dire la valorizzazione di imprenditori locali, di idee che nascono sul territorio come un elemento centrale. Il terreno di senere creative ha messo in luce una grandissima creatività, una grandissima animazione nel territorio CEV, vogliamo continuare a dargli un seguito a questa iniziativa, stiamo lavorando con le istituzioni locali affinché anche dopo la riforma delle istituzioni che vedranno la provincia non più come in questa forma, ora vedremo in che forma poi nei prossimi giorni capiremo meglio anche il decreto del Rio cosa stabilisce, comunque al di là di questo le istituzioni locali stanno lavorando già insieme a noi per essere i testimoni, per prendere in mano il testimone e dare vita appunto poi dare gambe a questo piano di sviluppo che stiamo costruendo e quindi anche a dare dei senere creative. Assessore Berni, abbiamo detto più volte che il progetto Siena Carbon Free che la provincia di Siena ha portato avanti in questi ultimi anni rappresenta un traguardo importante ma soprattutto un punto di partenza, da cui ovviamente non possiamo considerare l'aspetto dello sviluppo anche economico e delle opportunità che da questo progetto potranno nascere in futuro. Ecco, a che punto siamo e nel futuro appunto che tipo di sviluppo ci sarà per Siena Carbon Free? Siena Carbon Free rappresenta appunto un traguardo raggiunto ma mi verrebbe da dire da non archiviare, un punto di partenza o meglio di ripartenza da un traguardo importante essendo oramai oggi certificato che siamo la prima area vasta o provincia ad avere un bilancio delle emissioni del gas clima alteranti pari a zero. Una necessità dal punto di vista ambientale, una grande opportunità per costruire su un nuovo paradigma, quello della sostenibilità individuata come fattore di sviluppo e di grande attrattività verso l'esterno, quindi anche un nuovo modello di sviluppo. Quello che stiamo provando a definire anche all'interno della presentazione del piano strategico è un'idea di ridefinizione, anzi un superamento un po' delle azioni di resistenza nei confronti della crisi, la definizione di quelle sono le progettualità che possono interessare il nostro territorio da qui al 2020. Ecco la sostenibilità e Siena Carbon Free secondo me rappresenta uno di quei filoni che sono un testimone importante e lasciamo in eredità al territorio e ai nuovi assetti istituzionali. Filoni di sviluppo che sono già stati impostati anche all'interno del nuovo piano energetico provinciale che prevedono importanti azioni che possono generare riduzione in termini di costo, quindi un fattore economico importante sia per le famiglie e le aziende sul fronte dell'efficientamento energetico sul fronte dell'innovazione in questo connubio fra conservazione appunto e una grande iniezione di innovazione che è la sfida secondo me che si deve provare a giocare il nostro territorio e altre progettualità estremamente importanti. Una su tutto mi piace ricordarla perché noi in questo percorso abbiamo costruito i requisiti per poter competere sul piano dell'attrazione delle risorse sui bandi europei che in questo momento stanno orientando una grande mole di quantità, di risorse, di denaro in questa direzione. In maniera particolare questo fa riferimento a una progettualità che è definita Smart City, quindi la costruzione di comunità intelligenti grazie anche qui a una grande dose di innovazione, l'ICT e quindi quello che esiste oggi nel panorama esterno al nostro territorio per cui abbiamo costruito dei requisiti importanti per poter competere. L'attrattività è l'altro aspetto che può generare un grande ritorno, un grande indotto sul nostro territorio, quindi Siena Carbon Free oramai rappresenta un punto di partenza importante e da questo abbiamo anche riscontri e segnali positivi che partono dal tessuto produttivo e dai cittadini della nostra realtà. Questo è l'altro elemento fondamentale, ovvero che i percorsi di questa natura possono e debbono essere costruiti dalla comunità nel suo insieme. Parlando del nostro territorio insieme all'assessore Anna Maria Betti parliamo anche del futuro che deve assolutamente essere green per quanto riguarda la provincia di Siena, un futuro assolutamente sostenibile. Che futuro si intravede dunque? Io credo un futuro che tenga fede agli impegni assunti nel passato e che ci vede anche nel presente far crescere quella dimensione di reputazione delle terre di Siena, ormai come dire nota in tutto il mondo per la qualità e eccellenza dei nostri beni di vario tipo ma anche dei nostri servizi e che oggi sono pronte, io ritengo, ad accogliere quella che è la sfida a livello nazionale ma anche mondiale, che è di caratterizzare ancora di più prodotti e servizi verso quella che è anche tra l'altro una domanda crescente, cioè a basso impatto ambientale, a forte responsabilità etica di impresa. Io credo che la provincia di Siena abbia una lunga storia di impegno in questo senso, con risultati concreti raggiunti, basta pensare alla certificazione ambientale prima e oggi all'obiettivo del carbon free raggiunto e che deve oggi più che mai essere impegnata a delinare proprio a favore del tessuto produttivo che tanto si sta spendendo in questa direzione, di delinare questa eccellenza sempre più nella logica della sostenibilità. è da qui che passerà la, come dire, compositività prossima avventura a livello globale. Siamo insieme ad Andrea Paolini, direttore generale della Fondazione Toscana Life Science, si parlerà nel contesto di oggi di creatività e innovazione, questo è l'humus fertile per le terre di Siena per l'incubazione dell'impresa biotecnologica. Allora Toscana Life Science ha lavorato moltissimo in questi anni, ecco nel prossimo futuro in che modo sviluppare ulteriormente le vostre, come dire, idee, l'humus fertile che abbiamo appunto ricordato prima? Sicuramente continuando a lavorare su tutte quelle idee innovative, su quelle proposte, attività di ricerca che ci vengono proposte, che hanno delle potenzialità di diventare imprese e quindi di trasformarsi in progetti che poi si possono radicare sul territorio. Ovviamente un'altra fase importante sarà aiutare chi ha già iniziato questo percorso a crescere, a posizionarsi sul mercato in maniera più forte e quindi a continuare ad avere successo in un settore molto difficile ma nel quale qui in terra senese insomma abbiamo delle ottime competenze e poi sono la base fondamentale. Non si può creare innovazione se non ci sono le basi importanti, anche mi viene da dire storiche, che quindi vengono da una cultura del settore e soprattutto se non si ha un mix di competenze, sono quelle universitarie, quelle imprenditoriali e quelle ovviamente finanziarie e di un territorio forte che crede in queste partite, in queste politiche per poi poter dare un ulteriore sviluppo. Biotecnologia, c'è ancora spazio in terra di Siena per parlare di uno sviluppo in questo settore e per dare campo soprattutto ai giovani? Sì, assolutamente sì, sia per la componente importante universitaria che quindi è la base dalla quale dobbiamo partire. Noi possiamo lavorare molto bene ma se non c'è un'eccellenza, se non c'è una base di formazione, di competenze, di conoscenze importanti non possiamo aiutare nessuno a diventare imprese e a crescere in maniera adeguata. E poi perché anche il mercato in questo settore sta cambiando, quindi noi abbiamo sicuramente grandi potenzialità che derivano da quello che già esiste, dalle grandi imprese, dalla Novartis, dalle tante altre imprese medie che sono sul territorio ma anche da delle dinamiche che caratterizzano il mercato mondiale che ci dice che le piccole imprese innovative sono un po' il futuro perché sono molto dinamiche, sono molto attive e sono anche il terreno su cui puntano le grandi imprese per andare a cogliere le innovazioni e le vere novità. Quindi noi crediamo che su questo si deve continuare a lavorare, lo sta già facendo molto bene anche l'Università che crede molto negli spin-off e nella creazione di imprese, poi l'obiettivo è di radicare queste imprese sul territorio e poi di farle crescere adeguatamente. Ovviamente il nostro territorio non può prescindere dalla bellezza artistica, dalla ricchezza artistica. Luigi Di Corato è direttore generale della Fondazione Musei Senesi, oggi si parlerà delle terre di Siena che sono di fronte ad una sfida molto importante, quella del distretto culturale. Sì, è una sfida direi essenziale perché è uno strumento che ci permette di far sì che la cultura diventi un elemento per lo sviluppo. Un distretto sostanzialmente fa una cosa semplice ma complessa nel suo insieme, ovvero fa sì che l'offerta culturale di un territorio ad altissima densità culturale come il nostro possa essere messa a disposizione delle attività produttive. Quindi fa sì che il patrimonio che di solito per esempio per chi viene da fuori, per i turisti, è uno dei motivi di destinazione che fa sì che vengano a trovarci proprio per partecipare al nostro stile di vita nell'arte e nella cultura, possa essere, se ottimizzata, a servizio in modo strutturato, concreto ed attivo di chi sostanzialmente ha attività ricettive, di chi produce artigianato di alta gamma, insomma di tutte quelle industrie creative e dell'accoglienza che oggi possono fare differenza sul PIL. Ecco l'Italia in generale, quindi anche un po' il nostro territorio vive secondo me una contraddizione fortissima, cioè siamo il territorio con una ricchezza straordinaria dal punto di vista artistico, culturale, architettonico, ambientale, ma purtroppo non riusciamo forse a sfruttarlo come fanno altri paesi e non riusciamo a fare economia anche con la cultura. Ecco, in che modo poter invece ribilanciare questi due aspetti? Ma sai, il tema è la distanza. Quando quello che ci circonda diventa parte del nostro DNA, forse non abbiamo la distanza effettiva per poter prendere decisioni con serenità strategica. In realtà il tema è molto più semplice di quanto si possa immaginare, ovvero sia, ci vogliono i tecnici. Paradossalmente in Italia chiunque abbia fatto il liceo classico si sente in grado di poter parlare o gestire beni o patrimonio culturali, in realtà non è così. Fortunatamente oggi anche in Italia esistono percorsi di studi specifici, esistono i primi manager della cultura che hanno dimostrato di portare anche dei risultati dal punto di vista economico e quindi il mio punto di vista è lasciamo fare ai tecnici.